Perché una parte del discorso cambia? Principalmente per differenziare il genere e il numero. Alunno, alunna. Quindi abbiamo con questo cambiamento abbiamo la differenza fra il genere maschile e il genere femminile. Alunno, alunni, alunna, alunne. In questo cambiamento abbiamo la differenza nel numero singolare dal plurale. Qual è la parte del discorso che cambia di più? Il verbo, quindi il cambio delle parti del discorso, è funzionale.